delle soluzioni adeguate. Grazie. Grazie, onorevole De Monte. Un minuto e mezzo. Finalmente, dopo due anni di negoziati, abbiamo l'opportunità di votare questo importante regolamento. La sicurezza nel campo dell'aviazione è di vitale importanza. Mantenere sempre aggiornata la lista nera delle compagnie aeree però non basta. Evitare che le stesse possano volare nei cieli europei, grazie al wet lease, è una vera vittoria. Anche le condizioni dei piloti e dei membri dell'equipaggio di alcune compagnie low cost possono influire sulla sicurezza del volo. Per questo motivo ritengo importante che tali aspetti vengano presi in considerazione. Infine, mi compiaccio del nuovo ruolo dell'Agenzia e della possibilità della stessa di aprire uffici regionali in Paesi terzi per fornire sostegno all'attività di certificazione e per lavorare su aspetti tecnici. Questo nuovo ruolo internazionale aiuterà a promuovere l'industria europea dell'aviazione e gli altri standard europei in materia di sicurezza. Grazie.